alberto ceri senior director della matrox alberto qui oggi vediamo la m264 l'ultima novità matrox per la ibc infatti questa nuova scheda è un nuovo processore coprocessore che dalla possibilità di fare di fare molti stream h264 in 420 fino a 422 in 8 e 10 bit con la capacità di andare da risoluzione standard fino alla 4k e la potenza di questa scheda che è una scheda pci e che funziona con windows e linux è per dare la possibilità dei nostri sviluppatori di fare tanti differenti tipi di prodotti tipo dei sviluppare dei prodotti per la distribuzione di h264 per fare dei sistemi di contribuzione e anche di acquisizione ok la potenza di questa scheda è che capace di fare tanti stream contemporaneamente contemporaneamente allora per esempio in hd siamo capaci di fare 16 stream h264 in 422 10 bit siamo capaci di fare 6 stream se guardiamo fino al 4k siamo a fare siamo capaci di fare anche un stream di 4k p60 con questa scheda qui quindi una capacità di processamento e quindi un adeguato hardware per supportare questa grande potenza di calco infatti allora la bellezza di questa scheda qui è che non usa molto power allora ecco il disegno della scheda è stato fatto per usare no più di 25 watt allora dalla da tanti possibilità a dei nostri o i am a fare dei sistemi per i broadcaster questa scheda è già disponibile sul mercato ea che prezzo sarà posizionato questa scheda già disponibili già abbiamo infatti qui alla fiera c'era anche la visarti che ha già mostrato questa scheda nel loro stand e stiamo adesso i nostri obiettivi stanno iniziando a sviluppare e vediamo dei saranno molti prodotti usciranno con questa scheda per il nab sicuramente città un po di tempo e dalle tempo ai nostri sviluppatori definire loro i prodotti e l'altra cosa anche importante a spiegare che la scheda è capace di supportare e compliant con il codec della sony ex avc e quella anche della panasonic e visi e visi ultra questo anche due cose importanti di questa scheda per dare dei per dare la possibilità ai nostri obiettivi a fare dei sistemi di acquisizione compatibili alla sony e la panasonic approfittiamo dell'occasione per ricordare anche la precedente scheda che era dedicata invece al broadcast sì l'altra scheda che è il nostro cuore del nostro business sono il nostro la famiglia ex miotri che adesso si stanno si stanno usando anche in italia già la dalet ha sviluppato dei prodotti su questa scheda qui e lo sta usando la media sette infatti in italia già adesso questo è il nostro gamma di prodotto sdi che funziona anche con questa scheda qui per fare il codaggio di di anche 264 alberto ceri antonio franco dallo stand della matrox qui della ibc di amsterdam per mille canali punto it grazie a tutti grazie a tutti